Ragazzi a buon pomeriggio ho deciso per Pasqua di fare solamente per voi un contest flash pasquale che vale solamente per Instagram dove si potrà vincere a questo bel portafoglio clipper offerto dalla ditta caniglia uomo però per partecipare a questo contest flash pasquale dovete seguire due regole semplicissime la prima è mettere i segui sul mio profilo Peppe Channel trattino basso official e mettere i segui anche su caniglia uomo e poi due taggare 5 vostri amici sempre su Instagram e poi mi raccomando di non fare i furbi e invierò il premio dopo la verifica di queste due condizioni tramite un sorteggio ok ciao ciao